La notizia è che il Torino Short Film Market, capitolo 3 di quest'anno, non è soltanto un mercato, è molto di più, resta un mercato, se per mercato si intende la possibilità, più che di comprare e vendere, di vedere quello che c'è, quello che si muove, anche a livello di legislazioni dei singoli paesi, di festival, di rapporti fra produttori e distributori, la possibilità di comprare e vendere cortometraggi, rapporti con i broadcasters. Insomma, il Torino Short Film Market è un punto di incontro con i suoi panel, con le sue discussioni, i suoi dibattiti, i suoi incontri informali ma seri, sempre più importante. Lo dico da giornalista e da critico, pur coinvolto nel mondo del cortometraggio, in alcuni festival e nella preselezione dei corti per i nassi d'argento ogni anno, lavorando anche allo Short Film Market, ma credo di essere abbastanza oggettivo nel dire che si sente in giro in questi giorni, si è sentito parlare molto bene, soprattutto per la leggerezza e serietà nello stesso tempo. Anche per l'eterogeneità dei temi affrontati, forse troppi in quattro giorni, ma credo che fisiologicamente siano 100 ore molto ben spese per poter fare il punto su una situazione del cortometraggio che, per chiudere, è sicuramente una delle forme di espressione cinematografica più importanti. E' nato il cinema come cortometraggio, inevitabilmente, come documentario cortometraggio, quelli dei fratelli Lumière, come fantastico cortometraggio, quello di Méliès. E poi il cinema si è diviso in due. Allora, qual è il punto? Il punto è che corto è molto bello, ma è soprattutto qualcosa che può essere visto anche dal pubblico che non sa che queste cose esistano. In Italia abbiamo bisogno di trovare pubblico, oltre che finanziamenti per festival e per altre cose. Short Film Market a Torino, comunque, è sicuramente un momento e un luogo in cui le cose avvengono, si discutono, si preconizzano e si dibattono in maniera giusta. Aspettiamo il quarto capitolo della saga.